Anticipazioni Domenica Live 11 febbraio, Francesco Monte ospite in studio. Diretta Domenica Live, Anticipazioni 11 febbraio, arriva in studio Francesco Monte. Domenica Live. Ha preso il vincitore assoluto, che sarà proclamato questa sera in diretta. Domenica Live, Anticipazioni puntata 11 febbraio. Una puntata molto attesa quella della Domenica in post Sanremo, che come da tradizione attirerà l'attenzione di milioni e milioni di spettatori e quindi che potrebbe causare non pochi problemi dal punto di vista degli ascolti alla Domenica Live targata Barbara D'Urso. Cosa succederà nel corso della puntata di domani pomeriggio del talk show di Canale 5? Le anticipazioni ufficiali rivelano che nel corso della prima parte ci sarà un talk show sul festival di Sanremo 2018. Come succese ogni anno, infatti, la D'Urso dedica un approfondimento al festival della canzone italiana commentando con i suoi ospiti tutto quello che è accaduto nel corso di cinque serate sul palco del Teatro Ariston. Quest'anno l'inviato della trasmissione nella città dei fiori è stato Raffaello Tonone, reduce dalla sua partecipazione trionfante al grande fratello Vip. Francesco Monte ospite a Domenica Live dopo la bufera droga. E poi ancora in queste ore si vocifera anche di un possibile approdo nel salotto di Domenica Live di Francesco Monte, reduce dallo scandalo droga all'isola dei famosi 2018. Questo pomeriggio Monte è stato ospite in studio a Verissimo da Silvia Toffanini e i morti adesso si aspettano di poterlo vedere per la prima volta dopo la bufera anche nel salotto di Barbara D'Urso, che in queste settimane lo ha sempre difeso dalle accuse fatte da Avenger, e che in generale si è sempre schierata dalla sua parte anche ai tempi della fine della sua storia d'amore con Cecilia Rodriguez. Francesco Monte sarà in studio oppure no? Al momento non si sa ancora, anche se il ragazzo qualche giorno pubblicò un post sui sociali in cui diceva che non avrebbe partecipato a nessuna trasmissione televisiva. E poi ancora le anticipazioni di Domenica Live dell'11 febbraio rivelano che per la parte dedicata all'approfondimento politico sarà ospite in studio a Emma Bonino. Al prossimo episodio